Belli ragazzi sono GNA BRI ovvero Gnabri e sono tornato qua con un nuovo video Dopo aver fatto mille addominali di fila sono qui per una nuova sfida ma quale sarà l'ospite di oggi? Ah io Oh Vabbè comunque eccolo lì sarà il pallone perché oggi proverò a fare mille palleggi di fila Il mio record è penso tipo 300 quindi arrivare a mille sarà un po' l'impresa però dai ci proveremo Prima di iniziare questa sfida bisogna avere un abbigliamento adatto e infatti togliamoci la felpa E' da notare la maglia del Brasile che come molti di voi sapranno i brasiliani sono bravi a giocare a calcio Quindi saranno bravi anche a palleggiare Ok più o meno questo sarà il mio spazio dove dovrò fare mille palleggi Sarà una sfida abbastanza ardua non so quanto ci vorrà però io ci proverò e ce la farò No non lo so dai adesso speriamo Sono pronto per questa sfida 3 2 1 Partiamo benissimo 3 2 1 Ok più o meno 50 ho già affinato Riprendiamo Questo era solo un riscaldamento dai Normale 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 13 14 15 19 19 15 20 No, no, basta, basta Non è caduta, si è caduta Ok sono giunto a una conclusione ovvero provo a cambiare il pallone e vediamo se ne farò di più Ok stava procedendo tutto bene, mi sono dovuto bloccare perché la vicina mi ha parlato Io voglio spararmi Perché? Dopo l'interruzione sono più carico di prima perché con questo pallone stavo andando abbastanza bene Dai eh No, no, no ero quasi a 300 per un errore stupido perso Allora Allora No, no, l'avevo tenuta su lì dal cancello Ok ragazzi questa sfida si sta facendo più d'ora del previsto quindi faccio gli ultimi 3 tentativi e se non ce la faccio sono uno stupido Vabbè era una prova Era un'altra prova Tanto c'è il soli infaccio che sto un po' rompendo però vabbè L'ultimo tentativo L'ultimo tentativo Sto scherzando questo tutto Purtroppo ragazzi è stata un'impresa fallimentare pensavo fosse un pochino più semplice e quindi ho perso la sfida Brutto da dire ma l'ho persa Scrivetevi nei commenti una penitenza da fare nel prossimo video ma fatela pesante perché non ho fatto neanche la metà E consigliatevi anche qua sotto un'altra sfida da fare più fattibile perché io sono scarsa calcio Vi ricordo di seguirmi su Instagram ovvero chiocela gnabri perché ho messo anche una foto oggi quindi ammette tutti su Instagram E noi ci vediamo in un prossimo video Spero di non fallire più e ciao 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 Ciao